Francesco un po' di tempo fa mi ha chiesto di fare questo intervento a questo convegno e dice guarda c'è un convegno sulle risorse umane, perché inviti me che sono presidente di una piccola cooperativa, invita qualche direttore personale delle grandi cooperative sicuramente ci hanno da raccontarle più di me in maniera, nell'argomento specifico lui mi fa e dice guarda è tutto un altro argomento, noi imbastiamo questo convegno con le storie con il racconto delle persone, con il vissuto per far comprendere a tutti che non è poi il nostro lavoro sulla gestione delle risorse concentrata, non è solo quello, dico va bene vengo, dico che devo dire, mi devo preparare, devo fare una relazione, dice no, dice ti aiuto io in un percorso, dico questo non è l'aiuto, però Francesco dice di quello che ti parlo. chiamiamola io. Allora, io inizierei a fare questa considerazione, uno, che per la mia esperienza è importante avere sempre come punto di riferimento la chiarezza sulla missione e sulla visione che deve essere dentro a qualsiasi imprendimento. Questo è fondamentale e faccio questa dichiarazione perché poi mi accompagna in tutto il percorso che vi racconto, un po' di vita personale, non dico dall'infanzia ma comunque giù di lì dalle scuole perché credo poi fondamentalmente che le imprese che agiscono sul territorio danno un'impronta e caratterizzano anche la cultura della società locale, della comunità e specialmente le imprese che hanno successo ancora di più perché danno anche un punto di riferimento e un senso e un orientamento alle comunità e poi in qualche modo contribuiscono a migliorare l'equità sociale. Parto da questa considerazione della mia storia personale. Io sono nato in un paese minerario sulla minata, un piccolo paese, mio padre era minatore e io mi sono accorto solo successivamente dell'impronta che aveva data la miniera alla nostra comunità. Siccome la miniera è un posto di lavoro pericoloso, la comunità era molto solidale e io sono cresciuto in una famiglia che esprimeva ai figli e con chi interloquiva un senso di solidarietà. Vi dico due o tre cose. Noi quando eravamo bambini che si usciva, a parte la prossimità quindi del paese, però se un genitore avrà bisogno di sapere dove era un figliolo, faceva un giretto per Rione, diceva, oh hai visto il mio figlio? Sì è andato là, sì è andato di sopra, poi se incontravi uno che era stato consultato dice, oh ti cercano, vai a casa. Questo era un po' il contesto del vissuto. Perché dico questa cosa e che mi sono convinto solamente successivamente nel percorso della vita, anche professionale, del lavoro di questa situazione? Perché penso di essere stata poi successivamente anche una persona fortunata. e l'incontro mio con la cooperazione è stato un incontro naturale. Prima questione, alle scuole elementari per parlare sempre del condizionamento. Io ho avuto un maestro in terza, in quarta e quinta elementari che diceva, ci insegnava delle cose, lui aveva fatto la guerra in Africa, era il figliolo di una famiglia aristocratica, gestivano le esattorie comunali, le tesorerie che erano aziende private che facevano le tesorerie comuni. Però lui faceva il maestro. Però faceva il maestro. E era calvo e veniva a scuola sempre con il cappello, che fosse d'inverno, che fosse d'estate. e oltre la lezione ci diceva, ricordatevi nella vita che il borsalino ci sarà sempre qualcuno che lo porta. Ho capito successivamente che lui si riferiva al fatto che i berretti della miniera, le babbo andava in giro con il berretto basco, quello rotondo, il berretto, ce l'avete presente, i berretti di prima, dei minatori. E successivamente ho capito la differenza sull'eccellenza e sul puntare alle cose di qualità, perché lui diceva crisi o non crisi, eravamo in un periodo dove c'era una prima crisi delle miniere, gli diceva queste cose qui. Dovete puntare a lavorare in aziende, lui la diceva così, e quindi dovete studiare, dovete impegnarvi, perché i vostri genitori, perché le miniere, perché la miniere è crisi. Io invece coltivavo da subito il sogno di andare a lavorare a miniera, di fare il berretto minerale. Mi ero messo in testa questo fiodo già dalle scuole elementari. Altra fortuna che all'istituto superiore, nelle scuole medie avevo incontrato degli insegnanti, uno di matematica, uno elementari che erano un po' rivoluzionari, erano due pisani, una coppia di pisani, uno insegnava matematica, uno scienze, poi c'era un altro insegnante che insegnava lettere, storia e geografia e anche lì altri insegnamenti sul... ci si avvicinava ai tempi del 68, insomma questi venivano dall'università pisana e ci insegnavano anche a vedere il mondo e la visione dell'assetto della società da un altro punto di vista. E all'istituto invece ho incontrato poi un insegnante di tecnologia che veniva da Massa Marittima, vicino al paese minerario, le Piriti eccetera eccetera, e che già all'epoca ci insegnava a come praticare il nostro mestiere, diceva noi siamo periti, ricordatevi bene che ci sono gli ingegneri che progettano, oggi si fa riferimenti alla squadra, dice però, dice se gli ingegneri progettano e noi faceva riferimento alle navi non siamo lì che chi manda le caldaie, chi si preoccupa dell'impianto elettrico, la nave non parte, la nave non esce dal porto. E io continuavo a sognare di entrare in miniera come perito perché pensavo di dare un grosso contributo alle manutenzioni, alle cose per rendere la vita dei minatori più salutare dal punto di vista della salute perché poi lì ci si beccava la silicone. E quindi sono stato accompagnato anche nella formazione scolastica da questo pensiero e da una comunità che era solidale e quindi che era spontanea la solidarietà tra le persone e tra la comunità. Tant'è che nel mio paese nasce la prima cooperativa di consumo, prima del 1900, 1885, quindi c'era una storia, la miniera creava anche questo tipo di cultura. La prima cooperativa e prima della cooperativa c'era la società di mutuo soccorso con quello che significava la partecipazione e con la sottoscrizione di quote da parte di tutti quanti i cittadini del paese perché non c'erano le mutue, non c'erano le infortuni, non c'erano tutte queste cose. E questa è una parte. Perché dico la missione e le aziende e le imprese che influenzano la società? Di questo me ne sono convinto poi anche, come vi dicevo, successivamente. Poi c'è stata una pausa del militare, inizia veramente la crisi delle miniere, io avevo visto le miniere durante una manifestazione grossa di occupazione, oggi c'è la divisione che trasmette l'occupazione delle miniere in Sardegna, io l'ho vissuto e avevo 7-8 anni, c'era un costruttore che metteva a disposizione un camioncino delle famiglie per le famiglie che andavano a portare i viveri alla miniera. E vedevo praticamente questa situazione di scontro sociale dove da una parte si doveva chiudere le miniere e da quell'altra parte c'erano i minatori che avevano occupato i piazzali pieni di celerini. E quindi sopra questo camioncino c'eravamo noi, seduti per terra, con le mamme, con le damigiane dell'acqua, con i sacchi del pane eccetera eccetera che poi mandavamo giù e quindi c'era invece sulle gabbie, si chiamavano gli ascensori, c'era il presidio dei minatori. Quindi una società che è solidale, che però è contraddistinta anche da una forte caratterizzazione sindacale, cioè lì la sindacalizzazione era un aspetto forte insomma, che metteva in rete anche non solo la comunità locale del nostro paese ma anche dei paesi limitrofi, di tutti quelli che lavoravano qui. Tant'è che ci si conosceva tutti, anche da ragazzi, quando si andava poi alle scuole, chi al liceo, chi da una parte o un'altra, però ci si incrociava con questi autobusse che andavano avanti e indietro nei punti di frequento delle scuole. E di lì poi dopo hai cambiato idea? Non è che ho cambiato idea, io ho fatto la scuola tecnica, però poi militare, dopo il militare sono tornato, la grande crisi veramente, la chiusura delle miniere, una cassa integrazione per 400 operai, in un versante altri 7-800 in un'altra miniera, quindi praticamente l'economia della miata era in ginocchio e con un gruppo di amici decidemmo di costituire una cooperativa, cioè non è che fu una scoperta, una sorpresa, che cosa si fa? Si mette insieme e si costituisce una cooperativa. C'erano degli interventi che facevano gli Aeneo Civile, la regione toscana che era da poco, anche negli anni 70 si costituì le regioni, facevano lavori di idraulico forestale, di assetto del territorio. Ci mettemmo d'accordo, eravamo tutti amici già dall'infanzia, ci trovavamo lì, io avevo fatto una piccola scappatina a Firenze, ma resistenti 7-8 mesi, non era aria con me, non sapevo rinunciare al luogo al mio paese e quindi sono tornato su, si è messa insieme questa cooperativa, ci ha aiutato nella Costituzione anche perché noi non sapevamo niente di organizzazione aziendale, la Lega, la nostra organizzazione provinciale che con un funzionario da partire dallo statuto, a regolamenti, a tutte le cose, però eravamo, nasce da lì quindi, eravamo armati di entusiasmo, di voglia di fare le cose, ci siamo un po' trasformati, chi ha cominciato a usare il trattore, chi una pala meccanica, qui una storia o un'altra, ci hanno dato poi aiuto una decina di operai che erano stati espulsi da un'azienda dell'edilizia, Costruzzone. Adesso, attraverso questo percorso sei arrivato poi dopo alle cooperative di consumo? Alle cooperative di consumo ci sono arrivato successivamente, dopo questa esperienza qui sono stato chiamato a dirigere un consorzio che realizzavano un stabilimento per la produzione dell'insaccati, della trasformazione delle carni suine e partecipava anche la nostra cooperativa che nel frattempo aveva realizzato un allevamento e da lì poi tutta una serie di vicende. Io sono approdato alla cooperativa di consumo, ah, premetto, ne sono dimenticato di dirte una cosa, che la considerazione della cooperativa, quando ci si sposava dopo due giorni si andava in coppia a fare la domanda a soci, io mi sono sposato nel 76 di agosto, il 14 di agosto sono andato a scrivermi alla coppia, sono diventato socio della coppia, la mia tessera è 1330, oggi siamo 25-26 mila, quindi capite che ero uno dei primi soci, perché ti sposi, metti su famiglia e quindi ci devi avere la tessera per andare a fare la spesa in autonomia, senza ricorrere alla mensa di famiglia. Sono arrivato a Coppe perché c'era il vecchio gruppo dirigente, non è che fossero soci dipendenti, il Presidente e il Vicepresidente che erano vecchi leader che avevano fondata Coppe Unione Amiatina perché erano piccole cooperative di piccoli comuni, noi abbiamo seguito un po' tutto il processo di aggregazione come hanno subito le cooperative a livello delle grandi città. Ecco, ma fermati qui perché è interessante, adesso tu sei arrivato per questa strada qui al vertice di, nel senso che sei il Presidente, quindi in qualche modo hai un ruolo di leader, dicevi c'erano dei leader, sei leader tu, quanti soci ha la cooperativa? 26.000 soci. Come ci si sente a fare il leader dei 26.000 soci essendoci arrivati per questo percorso? Poi secondo te c'è un parallelo tra questo modo di essere leader di un'associazione del genere, dico associazione, nel senso che è un'associazione di pari, fare il manager in un'azienda secondo te? Allora, la dico così, il lavoro è uguale da tutte le parti, bisogna che ci sia per la chiarezza che si diceva all'inizio, non alla missione. Certo è che per noi la differenza è la natura dell'impresa, la natura particolare dell'impresa, essendo un'impresa e una società non di capitali ma di persone, quindi noi mettiamo al centro della nostra missione la persona e la missione di per sé, oggi è più attuale che mai, è evoluta però fornire i soci dei buoni prodotti a basso prezzo, questo era un po' e poi che si sancisce in questa maniera la mutualità che poi nel tempo si è evoluta, oggi sicuramente la solidarietà e la mutualità rispetto alle nuove esigenze, l'evoluzione del mercato ha un altro significato, è un altro aspetto. Però c'è una differenza perché noi nel nostro lavoro mettiamo al centro, dicevo, i soci e quindi i clienti non sono solamente clienti, sono soci, quindi tutte le accortezze vanno verso il socio, quindi è un modo diverso di interpretare, se pensi di interpretare il ruolo, se pensi che i nostri utili vanno a riserve indivisibili e quindi in questa maniera si arricchisce la cooperativa per pensare agli investimenti per lo sviluppo e qui si mette in essere l'intergenerazionalità della cooperativa e quindi anche la solidarietà con le generazioni future diverso è all'impresa di capitali che comunque deve fare delle buone pratiche e delle buone gestioni per eliminare il bene del capitale. Quindi noi non è che rinunciamo, questa qui è una cosa strana che non tutti riescono a comprendere, allora qui penso che la platea sia anche culturalmente di un certo livello, tutti i laureati, i direttori del personale eccetera, però queste differenze certe volte non vengono comprese, ma io certe volte anche così parlando a qualche incontro, a qualche convegno, diciamo sì ma voi siete una cooperativa, non avete fini di lucro e quindi dovete spendere i soldi per la solidarietà. Noi non è che rinunciamo, la cultura del profitto appartiene a tutti, è l'utilizzo del profitto. Per noi l'equilibrio importante da mantenere è l'efficienza e la solidarietà, è portare dei buoni risultati per gli utili e la solidarietà. Lo scopo dell'impresa è avere un equilibrio tra costi e ricavi, dopo dipende da come si ragiona. Adesso avevi detto giustamente lavorare per il futuro, l'intergenerazionalità, parlaci un po' del futuro perché forse in una organizzazione dove c'è questa attenzione alle persone, non solo a promulerare il capitale, si guarda al futuro in un certo modo. Cioè, tu sei stato, sei no, adesso sei stato per pochi anni il leader di un'organizzazione. Com'è che nel tuo mondo, se hai voglia di raccontarci qualcosa così, come pensi di, qual è il passaggio futuro dell'organizzazione, della cooperativa tua, no? Cioè, come si costruisce il futuro di un'organizzazione così, dove non c'è, passami la semplificazione, con un padrone che decide, no? E come si lascia anche, perché ci aiuti a riflettere sul ruolo anche del dirigente, no? Come si sceglie di lasciare un ruolo e si sceglie di garantire un futuro all'organizzazione. Ma, intanto, eh, questo qui non può essere un fatto soggettivo, ma poi ogni azienda si distingue anche per la sua dimensione, anche per lo stile di gestione. Noi, eh, la gestione della cooperativa è in mano a soci, nel senso che i soci regolano in maniera democratica il Consiglio d'Amministrazione e questa è una procedura e i dirigenti vengono scelti dal Consiglio d'Amministrazione. Io credo che sia importante in questo momento qui una cosa fondamentale che è trapelata poi dagli interventi anche che mi hanno preceduto, no? Questo problema della formazione... Fai tu un collegalato là... I gruppi di direzione, eccetera... Io penso che è importante in questo momento qui dove si deve navigare nella palude economica, nella... diciamo che il contesto è difficile, dobbiamo operare con degli stili, ma anche dare delle motivazioni forti ai nostri lavoratori e anche ai soci. Quindi uno dei problemi e della della scommessa del futuro è per noi come riposizionare la missione nei confronti dei soci. Quali è la nuova frontiera? Perché oggi non si parla più dei prezzi bassi e della qualità dei prodotti. Questo qui ormai nel nostro DNA è un argomento scontato. La nostra organizzazione nazionale, Coop Italia, fa centinaia di migliaia di analisi e di controlli all'anno. I nostri produttori, in particolare quelli che producono col prodotto a marchio, sottostanno a dei codici, rispetto dei codici di eticità e quindi con tutto il contenuto che c'è, rispetto dell'ambiente, dei diritti, dei valori sociali, eccetera. E quindi questo è un problema. L'evolversi del mercato non è che ci costringe, ci impone di essere adeguati per tutelare e garantire i soci. Noi, tutte le domande che ci faranno, noi perché siamo piccoli, ma che non c'avete riferimento nei Coppe Firenze, lo snodo è il riferimento al socio, quindi il servizio al socio. Se no, se si si allontana da questi valori, si perde la via di casa. Nel suo modo ha un riferimento ai valori anche un'azienda che non è fatta di soci cooperatori, no? Però poi dicevi che c'era un'analogia nel guardare al futuro. Poi dopo c'è anche il fatto di come... Io penso che tu sia visto come un leader, no? Com'è che un leader lavora al futuro dell'organizzazione che ha diretto? Questo lo puoi dire, se vuoi, come testimonianza, come ragionamento tuo. Lo so che poi c'è un consiglio che decide. Io fondamentalmente penso questo, non ho bisogno... Cioè, come dire, cosa lasciamo? E' sempre un discorso sulla sostenibilità. Cosa lasciamo ai nostri figlioli? Quando è che, diciamo, a loro lavora tu? Se te la dico io, io ho due figlioli, il suo nonno da due anni ti dico questa cosa qua. Allora, intanto penso che la formazione sia utile. Oggi è una giornata di formazione, così l'hai chiamata anche nell'introduzione. E quindi questo scambio non è che arricchiscono la platea. Io sono stato dall'altra parte e mi sono arricchito anche io. Ho sentito delle storie di tutti, della banca, di Maffei, che se vedeva il mio curriculum non me lo prendeva nemmeno in considerazione, perché ha detto che quelli che sono troppo... Infatti io mi sono lamentato anche con te, non lo potevi farci, ha sempre fatto tutto io. E la prossima parte di curriculum non mi prende in considerazione nessuno. A parte questo, dicevo, la formazione è fondamentale. Oggi noi facciamo anche della formazione per i soci, perché abbiamo le comunità dei soci, i soci attivi. Quindi è importante che si evolva anche la consapevolezza del socio, la consapevolezza della dimensione dell'impresa, la consapevolezza dei rischi anche della nostra impresa. E quindi questo è fondamentale. Però credo che in una situazione di difficoltà come quella di oggi, oltre che la formazione su mestieri e sulla professionalità, vada impostata una formazione motivazionale, che faccia sentire le persone che arrivano, i lavoratori, le persone, i nuovi assunti che vengono a lavorare con noi in un ambiente di prossimità, un ambiente familiare, un ambiente sereno, dove si devono sentire appartenenti a un gruppo di lavoro e che si privilegia quindi la collegialità in queste cose. Quindi la motivazione alla missione diventa fondamentale. Io vedo che quindi una formazione motivazionale veramente che entra dentro e che crei cultura dell'azienda per avere degli obiettivi importanti da perseguire. Poi noi, le generazioni future, io ti dicevo questo, Sì, concludiamo questo ragionamento sulla generazione. Allora, i giovani sono in difficoltà. I giovani sono in difficoltà. Quello che abbiamo fatto noi loro non lo possono fare. Io ti posso testimoniare che uno dei figlioli che abitano anche a Firenze è 30 metri quadrati di casa, 500 euro di affitto. Quindi voi siete tutti direttori del personale e sapete quanto è lo stipendio medio di una persona che ha 30 anni, che pochi anni è entrato al lavoro, eccetera, eccetera. Quindi fate le vostre considerazioni. Quindi se i giovani non trovano una motivazione vera per il lavoro è più la tentazione e la tendenza a uscire dal lavoro invece che stare. Quindi questa è una... credo che sia una difficoltà veramente che noi bisogna, e questo dicevo anche un po' di formazione motivazionale. Poi è vero che questo qui non serve per andare avanti. Che ti dico, io per questo percorso personalmente io sono una persona felice. Questa almeno è una bella conclusione. Dopo vediamo cosa lasciamo, cioè dovremmo... L'unica cosa che si può dire... No, mi ha detto, dice, te lascerai la novità. Che cosa ti lascio? Io penso di lasciargli degli insegnamenti, di aver portato dentro l'azienda la voglia di lottare, la voglia di traguardare. Abbiamo fatto una stagione di sviluppo importante per le nostre capacità. Siamo stati anche coraggiosi, quindi invito chi viene dopo di me a essere coraggioso perché si deve prendere anche le sue responsabilità. di lavorare in maniera trasparente, onesta, di essere umile perché è la capacità di ascoltare l'altro e di ammettere quando si sbaglia. Ci sono delle cose, dei valori che vanno conservati e che devono appartenere poi al funzionamento e all'organizzazione delle imprese, dell'azienda. Io credo che tra poco questa eredità la prenderanno in mano gli altri e penso, spero, che mi diano l'opportunità di lavorare nell'ambito del volontariato della cooperativa perché mi sento molto a piedi. Grazie. Grazie.